Eccoci qui con il nostro consueto appuntamento settimanale, è inevitabile oggi parlare del nuovo ministro che si è insediato una settimana fa dopo la formazione del governo, il nuovo ministro si chiama Maria Chiara Carrozza, una donna, ex rettore della scuola superiore Sant'Anna di Pisa, una vera e propria scienziata, esperta di bioingegneria e una studiosa, una ricercatrice proprio sulla costruzione di arti artificiali, anzi di mano artificiali. Nel mondo della scuola le aspettative nei confronti del nuovo ministro sono molteplici, anche molto alte. Lei a dire la verità ha già provato a smorzare un po' gli entusiasmi, affermando che per il momento non intende entrare nel merito dei singoli provvedimenti da adottare, voglio rendermi conto bene delle priorità che ci sono e soprattutto di cosa si potrà fare in concreto, non voglio fare annunci parlerò a cose fatte e non prima e questa frase l'ha ripetuta almeno due o tre volte negli ultimi giorni. Vedremo se sarà effettivamente così, ma purtroppo chi parla ha vissuto la propria vita nella scuola e molto spesso ha dovuto ascoltare dichiarazioni alle quali quasi mai sono seguiti fatti coerenti e questo si è verificato, è bene dirlo, è bene precisarlo con ministri di ogni colore, di ogni provenienza. Un fatto però è certo, il ministro Carrozza potrà contare su un forte consenso politico, certamente avrà l'appoggio del suo partito, il PD e quasi sicuramente non sarà osteggiata dal centrodestra. Molto accortamente ha già fatto una dichiarazione distensiva e che dovrebbe mettere un po' tutti d'accordo, almeno tutti in Parlamento, su uno dei temi più caldi, quello del rapporto scuola statale-scuola privata. Ha detto in proposito che anche la scuola privata svolge un ruolo importante e che si tratta di collaborare. Chi si aspettava una posizione diversa su questo punto sarà rimasto un po' deluso, ma insomma dovrà farsene una ragione, perché con la formazione di questo governo è inevitabile che su alcuni temi caldi, come per esempio il rapporto scuola privata e scuola statale, ci dovrà essere una mediazione. Maggiori perplessità suscita piuttosto la promessa, diciamo così, di intervenire in materia edilizia per quanto riguarda la scuola, anche se è vero che su questo capitolo i fondi sono già stati stanziati da tempo e quindi le risorse ci dovrebbero essere. Il fatto è che purtroppo nel corso degli anni il rinnovo e la manutenzione del patrimonio edilizio delle scuole, soprattutto in alcune aree del paese, sono stati troppo trascurati e ormai siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno. Qui non è certamente in questione né la serietà e né tantomeno la buona fede del neoministro, ma la verità va raccontata tutta. C'è per esempio un dato che sta circolando poco anche sui mezzi di formazione nazionali. Il documento di economia e finanza, cioè il DEF, che è stato approvato dal governo Monti proprio intorno al 20 di aprile e che sta iniziando in questi giorni il suo percorso parlamentare, contiene cifre poco rassicuranti. Nel documento infatti si dice che attualmente lo Stato italiano spende per l'istruzione il 4% circa del PIL, del prodotto interno lordo e questa percentuale viene considerata un po' da tutti bassa o comunque inferiore alla media europea, tant'è che il Ministro ha già detto che bisogna arrivare almeno al 6%. Peccato che il DEF, cioè il documento di economia e finanza che, ripetiamo, sta per essere discusso e approvato in Parlamento in questi giorni, dica proprio una cosa completamente diversa. Le cifre sono anzi molto allarmanti. Nel 2015 si prevede che la spesa per l'istruzione debba scendere al 3,6% e che si dovrà attestare addirittura sul 3,3% a partire dagli anni successivi. Ci auguriamo ovviamente che il Ministro Carrozza riesca ad invertire questa tendenza anche se i dubbi permangono. Passiamo a qualche notizia di carattere locale. Come i nostri telespettatori ricorderanno, nei giorni scorsi l'Associazione Gessetti Colorati aveva lanciato una consultazione fra gli insegnanti del Canavese sul documento dei 10 saggi, che è quel documento che 10 studiosi, 10 saggi, hanno consegnato al Ministro Napolitano e che dovrebbe servire come base per il futuro programma di governo. Questa consultazione fornisce alcuni dati di grande interesse. Intanto c'è da dire che non piace molto ai 50 insegnanti canavesani che hanno risposto al questionario che l'Associazione ha distribuito, non piace molto l'impostazione complessiva del documento, che parla molto di economia e poco, anzi pochissimo, di scuola reale. Per esempio, un'insegnante osserva, mi disturba molto che si parli dell'istruzione come di un mezzo, sia in ordine all'aumento della produttività, sia in ordine alla riduzione dei costi del sistema sanitario, come se il miglioramento del sistema di istruzione non debba essere considerato già di per sé un obiettivo, un fine degno di un paese civile. Qualcuno un po' ironicamente ha osservato che i bambini non nascono con l'unico scopo di sostenere la crescita economica. E dello stesso tenore una osservazione proposta da un insegnante. L'analisi è un po' casuale, superficiale, ci sono sì dati veri ed interessanti, ma manca un quadro culturale, politico, sociale e complessivo della scuola e dei suoi molti problemi. Insomma, questo documento, si dice, sembra un po' una chiacchierata al bar e si salta da un argomento all'altro. Ma le osservazioni più significative riguardano forse ciò che il documento non dice, cioè gli argomenti di cui non si parla. Per esempio, nel documento non si usa mai neppure una volta la parola educazione e neppure la parola insegnante. Altra dimenticanza importante, non c'è alcun riferimento al tema della cittadinanza. E quindi diciamo che il giudizio complessivo non è propriamente lusinghiero nei confronti di questo documento. C'è un punto invece che mette un po' d'accordo tutti ed è il fatto che nel documento si sottolinea che bisogna restituire tempo scuola alle scuole, alle istituzioni scolastiche e soprattutto alle scuole primarie e alle scuole medie. Ma anche su questo, chi ha risposto al questionario però ha osservato che questo è un nobile intento, ma bisogna vedere se si troveranno le risorse necessarie per realizzarlo. Veniamo ancora ad un'altra notizia. I pidocchi a scuola. È un problema che si ripresenta periodicamente nelle scuole primarie e dell'infanzia del territorio. Su questa questione abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di genitori ed insegnanti. Spesso le famiglie chiedono che vengano effettuati controlli o cose del genere, ma in realtà questo non è possibile per molteplici motivi. Non ultimo ci sono le norme sulla privacy. La lotta più seria alla pediculosi è invece la prevenzione da parte delle famiglie stesse. È necessario che le famiglie siano coinvolte e che conoscano le regole fondamentali dell'igiene del cuoio capelluto. È ovvio che è evidente che se in una classe ci sono anche solo uno o due bambini portatori di lendini, è facile che il fenomeno si diffonda e si generalizzi. Quindi è importante che tutti, ma proprio tutti, collaborino. Il servizio di igiene pubblica dell'ASL territoriale è anche disponibile ad intervenire a scuola, ma è bene chiarirlo con modalità e entrolimiti ben precisi. Gli operatori del servizio infatti non vanno nelle scuole per effettuare controlli, ma per incontrare gli insegnanti, i genitori e per fornire indicazioni e suggerimenti sul come affrontare la situazione. Un'ultima annotazione, ricordiamoci che la pediculosi non è una malattia, anche se certamente non è una cosa piacevole. Chiudiamo con una notizia di un concorso che si intitola Tutto sui rifiuti in 50 minuti, promosso dalla società Canavesana Servizi con la collaborazione dell'Associazione Gessetti Colorati. Nei prossimi giorni verranno distribuiti nelle scuole i questionari che la società Canavesana Servizi ha preparato e che serviranno per assegnare dei premi alle classi che si saranno maggiormente impegnate su questo tema. Il questionario è diversificato a seconda delle classi che partecipano, classi quarta e quinta elementari, prima, seconda e terza media. Al termine verranno segnati i quattro premi a seconda dei diversi livelli di età. Bene, con questo abbiamo concluso, arrivederci alla prossima settimana.